Partirà domani, il primo ottobre, un corso gratuito per migranti che è rivolto proprio ai rifugiati del progetto SPRAR di Teramo organizzato dalla Compagnia degli Sbandati. Sì, è un progetto che facciamo in collaborazione con lo SPRAR di Teramo e lo sportello sociale, un progetto di teatro con i ragazzi che fanno parte del progetto SPRAR, un laboratorio di teatro di 30 ore, quindi attraverso il teatro appunto conoscere se stessi, conoscere gli altri, anche per sentirsi parte di una comunità e anche con lo scopo di inclusione verso questa comunità appunto, da tutte e due le parti ovviamente. Un laboratorio teatrale che si concluderà con la messa in scena di uno spettacolo da parte dei ragazzi, ecco, credo verso febbraio, ecco più o meno, adesso poi stiamo vedendo la tempistica. Siamo molto contenti di questo progetto e non vediamo l'ora di iniziare. Che poi è il primo progetto che fate in tal senso? È il primo progetto che facciamo in questo senso, è il primo progetto insieme allo SPRAR e allo sportello sociale, quindi è anche una bella esperienza per noi e sicuramente ci sarà da arricchirsi veramente tanto, secondo me. È anche un modo, come hai detto giustamente, si parla finalmente di inclusione? Sì, perché comunque l'integrazione ci deve essere, anche perché, ripeto, come ho già detto, tutti siamo diversi e nessuno lo è, nel senso che le diversità non ci devono spaventare, devono unirci perché non può essere una guerra noi contro di loro, siamo tutti noi, non esiste un noi o un loro. Quindi questo è l'integrazione, deve essere alla base di una società civile, ovviamente con delle regole, con delle situazioni regolate, però ci deve essere, perché deve essere l'obiettivo di una società civile. Quanti ragazzi parteciperanno, quanti migranti parteciperanno a questo corso? I partecipanti saranno 15 rifugiati del progetto SPRAR, poi il corso comunque è aperto anche ai cittadini che vorranno in qualche modo partecipare, ma dopo su questo gli accordi sono con la compagnia. Certo, anche perché se si parla di inclusione deve essere un progetto aperto a tutti. Sì, perché solo così è possibile un confronto e comunque uno scambio. Lo SPRAR tra l'altro sta portando avanti tante iniziative, queste sono delle tante iniziative che appunto porta davanti. Sì, in particolare adesso quello che stiamo cercando di fare è dedicarci un po' anche a coltivare dei progetti che vadano sulla sfera ludica, perché è una vita fatta di sacrifici, quella del migrante, a volte ce ne dimentichiamo. Non solo quindi i vari insegnamenti, ma anche la sfera ludica è importante. Assolutamente, quelli sono i nostri livelli essenziali di assistenza che vanno comunque erogati, quindi perché no anche la parte di svago. Ion è uno degli attori che parteciperà a questo progetto dello sportello sociale della Compagnia degli Sbandati, questo progetto teatrale ed è un mediatore culturale che si trova da anni in Italia ed è riuscito insomma a trovare lavoro. Sì, io sono venuto qui nel 2014, poi stavo come un beneficiario allo Sprar di Teramo, quindi man mano mi trovo a fare un mediatore interculturale nel centro dello Sprar, quindi partecipo a questo anche corso perché è molto importante, con altri ragazzi, altri 15 beneficiari che parteciperanno anche a questo corso teatrale. Insomma si cerca anche attraverso la cultura, in questo caso un corso di teatro, ma non solo, di portare avanti il discorso dell'integrazione. Sì, allora sì, fa parte anche dell'integrazione perché questo, allora sappiamo benissimo che c'è questa paura tra come si chiama gli immigrati e come si chiama gli italiani, questo anche può essere, può rompere questa barriela che fa prima conoscere l'immigrato, anche conoscere gli altri, secondo me è una cosa fondamentale. Grazie. 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 Grazie.